Dopo un 2022 nero per la sicurezza stradale di Napoli e provincia, i primi mesi del 2023 non sembrerebbero voler seguire un trend particolarmente diverso. Solo nel weekend appena concluso, due incidenti hanno macchiato di sangue le strade del territorio. Sabato, lungo il cosiddetto asse mediano, la 29enne Martina Persico e il 27enne Francesco Cataldo hanno perso la vita in un sinistro nel quale sono rimaste coinvolte un totale di 5 macchine. Altre tre persone sono finite in ospedale per accertamenti dopo aver riportato ferite lievi, mentre una quarta è stata ricoverata in gravi condizioni. Ieri invece la tragedia si è sfiorata sulla Nola Villa di Terno, quando dopo poco le 4 una vettura è finita in testa coda occupando una corsia di marcia. Il tentativo è stato subito quello di sgomberare la strada e così l'uomo alla guida della vettura con l'aiuto del padre e del fratello e di un militare fuori servizio che aveva notato la situazione di difficoltà e si era fermato per dare una mano, si è messo a lavoro, ma dopo poco una terza auto accorgendosi troppo tardi dell'impedimento ha messo sotto tutti. Nessun ferito grave, ma comunque tantissima paura. A confermare il trend negativo delle strade della provincia sono anche i dati statistici. Lo studio sulla localizzazione degli incidenti stradali realizzato dall'ACI, infatti pur essendo aggiornato al 2021, mostra comunque come tendenzialmente la media dei sinistri avvenute sulle strade locali sia più alta di quella nazionale. Un problema legato al pendolarismo, cioè all'alto numero di lavoratori che di giorno in giorno si spostano dalla provincia alla città. Secondo l'ultimo rapporto di Lega Ambiente, in Campania si è passati dai 467.000 utilizzatori di treni e bus al giorno nel 2011 a 262.000 nel 2019, un totale quasi dimezzato nel giro di appena un decennio. Nella sola città di Napoli ci sono 613 auto ogni 1000 abitanti, in un rapporto da record europeo di oltre 3 a 5. Più auto in sostanza e anche più smog, ma soprattutto meno sicurezza.